Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, per quanto sia un passaggio parlamentare obbligato, parlare di legge europea in questa congiuntura politica non è semplicemente un atto dovuto. Bensì rappresenta per tutti noi l'occasione di una approfondita serie di riflessioni su questo meccanismo europeo di limitazione della sovranità nazionale ed imposizioni di normative sovrastatali che da tempo è al centro del dibattito pubblico europeo e sicuramente lo sarà ancora di più nei mesi dell'anno nuovo. Lasciando da parte per un attimo le costruzioni teoriche e gli scontri ideologici, dovremo guardare in modo pragmatico agli effetti sia economici che sociali, oltre che politici, causati dall'attuale assetto dell'Unione europea e da meccanismi di integrazione comunitaria e uniformazione legislativa di cui stiamo discutendo anche oggi. Gli effetti rispetto alle intenzioni e alle speranze dei padri ispiratori dell'UE sono stati completamente negativi. Nel torno di pochi anni il popolo inglese ha lasciato l'Unione. In tutta l'Europa è montata un'ondata imperante di malcontento. Ai suoi confini sono tornati a soffiare venti di guerra. In molti Paesi prostrati dalle politiche di austerity, la disaffezione verso le politiche europee è diventata disaffezione verso la stessa idea di Europa e, in alcuni casi, persino di democrazia. I conflitti nazionali non vengono più mediati, ma incanalati inconsapevolmente nelle fitte maglie della burocrazia europea, che è diventata portavoce di specifici interessi economici e nazionali. La nave Europa sta affondando e chi ha portato l'Unione europea sull'orlo del baratro rifiuta di assumersene la responsabilità e demonizza chi invece rappresenta, in forme democratiche e costruttive, un malcontento popolare che altrimenti si tradurrebbe in fenomeni tutt'altro che pacifici. Le politiche di austerity sono le principali responsabili di quanto accaduto, ma non possiamo fingere di ignorare che se quelle politiche sono state applicate è perché un'asse internazionale franco-tedesco ha fino ad oggi monopolizzato con grande vantaggio suo e altrettanto grande svantaggio altrui, qualsiasi azione concreta dell'Unione europea, trovando negli altri Paesi classi politiche subalterne, prive di una visione d'insieme che sapesse dimostrarsi costruttiva o troppo deboli per imporre sulla scacchiera internazionale le giuste rivendicazioni di un popolo sovrano. Pensare che un apparato burocratico in mano ai tedeschi e ai francesi faccia gli interessi degli italiani, degli spagnoli o dei greci è un'illusione che solamente chi è malafede o sprovveduto può coltivare. Questo è il grande problema dell'Europa, ridefinire nell'interesse di tutti una struttura che conviene soltanto a pochi. I popoli chiedono un cambiamento. La politica deve saperlo interpretare e portare a compimento, garantendo la democrazia e la pacificazione dei contrasti. E soprattutto la politica non può negare la necessità di un cambiamento dell'Unione perché chi, al contrario, si arroca su posizioni di retroguardio, pretendendo di dare l'ebriosa al popolo privo di pane, contribuisce a minare alle fondamente le garanzie democratiche degli Stati di diritto europei. Basta osservare cosa sta accadendo in Francia con la rivolta dei gilet gialli. Macron ha festeggiato la vittoria delle presidenziali con l'ino alla gioia e ora si trova delegittimato da una rivolta popolare che mette a ferro e fuoco l'intero Paese. Anche noi, nel giorno in cui discutiamo due procedure di infrazione e tre eupalot, ci troviamo immersi nella grande contraddizione europea. Ci sono commissari europei che nel loro Paese hanno attualmente meno voti di quanti ne possiede un qualsiasi sindaco di un comune italiano di medie dimensioni, ma pretendono di incarnare il rigore e l'austerità imponendo a milioni di italiani un programma politico rifiutato nelle urne del marzo scorso. Lo fanno in nome di regole sovranazionali, come quelle mediate dalla legge europea oppure rappresentate dall'obiettivo dell'equilibrio di bilancio o dal fiscal compact, che non hanno più alcuna legittimità, che hanno dimostrato di essere dannose per l'Italia e per la maggior parte dei Paesi dell'Eurozona e che i popoli chiedono fortemente di cambiare. Sono regole normative che devono essere scardinate con la più grande rivoluzione possibile, quella che i cittadini fanno dentro le urne con il proprio voto. Fino a quel momento ci troviamo costretti a muoverci dentro di esse, battendoci per ottenere il massimo per l'Italia e pronunciando sonori no in risposta a quelle istituzioni che in passato hanno trovato un'Italia rassegnata a dire soltanto sì. Anche in questa legge europea abbiamo saputo dire molti no, pur rimanendo all'interno del perimetro legislativo che abbiamo ereditato e che solamente un'importante azione futura nelle sedi europee potrà modificare di concerto con gli altri popoli. Siamo fiduciosi che le nostre istanze mirate a un cambio di rotta economico, contrassegnato dall'espansione e dal sostegno alle fasce deboli, vengano accolte nel loro impianto fondamentale dall'Unione europea. Sarebbe però preferibile che tutto il Parlamento italiano, e non soltanto la sua parte maggioritaria, si battesse con forza in nome dell'interesse nazionale, rivendicando il ruolo italiano di seconda manifattura d'Europa, di Paese contributore netto dell'Europa, di principale detentore di patrimonio artistico e culturale che non può accettare ingerenze immotivate o pregiudiziali. Purtroppo l'interesse nazionale per alcuni è ormai fuori di moda. Era trista vedere partiti politici che in passato hanno subito sulla loro pelle l'arroganza internazionale essere oggi più realisti del re. Forse la convenienza porta da quella parte, ma dovrebbe esserci qualcosa di più del grande campanilismo a tenerci uniti. Concludendo, Presidente, non dobbiamo rinunciare all'idea di Europa della grande casa al cui interno possiamo meglio affrontare le sfide e le competizioni del futuro, ma dobbiamo riconoscere che questa Europa dei cavilli, dello spread, delle ingerenze stranere, delle suditanze geologiche non è la nostra Europa. La nostra Europa affonda le sue radici indietro nei secoli ed è fonte di ispirazione per una ricostruzione dell'edificio comunitario, mentre la loro è diventata l'incubo di un sogno che tutti noi nutriamo ancora. Abbiamo dunque la responsabilità di riformarla, di preservare quel sogno e il voto sulla legge europea 2018 non fa che aumentare ulteriormente il senso di quella responsabilità. La maggioranza parlamentare le dà chiare a tal proposito. Ci vuole un'Europa politica, una banca centrale che sia prestatore di ultima istanza, una deregolamentazione negli ambiti meno importanti e una maggiore integrazione di quelli fondamentali. Non siamo il malatto d'Europa, Presidente. Siamo l'esempio che gli altri popoli seguiranno presto per dare luce a una nuova Europa con meno diseguaglianze, più economia reale e una forte ripresa valoriale. Grazie, Presidente.